E' tutta intera nelle sue diversità. Stamattina sono stato a una scuola di pianura dove c'è stata un'altra inaugurazione importante, adesso qui a Ponticelli e ci tengo soprattutto a ricordare che tutto è iniziato dopo la tragedia che ha riguardato Ciro Colonna, quindi che dalla morte possa nascere un risveglio civile. Quindi tante persone, l'amministrazione, le associazioni, le parrocchie, i familiari, gli imprenditori hanno contribuito affinché prima il campetto di calcio e adesso queste giostrine possano essere dei segnali, seppur piccoli però significativi, a sottrarre un'area al degrado e allo spaccio e farla vivere. E poi la cosa bella dal messaggio che passa è che i cittadini difendono il proprio territorio, come noi cerchiamo ogni giorno di difendere la nostra città.